Ragazzi, siamo a Modena e io ho ordinato di un acqua fritto come al ristorante e ragazzi, questo non lo deve sapere mia madre, devono sentire, ho acquistato GTA 5 online, ragazzi avete sentito, ho anche la casa, la sono comprata, che è successo con i tue polteloni? Il transformer, il transformer, mi sparo, mi sparo perché sono un carri armato e la mia testa è diventata un mini robot, chissà perché, chissà perché, forse è un minicom, forse è un minicom, ma quello è Red Bull, se la fa fa tutto, perché papà va male per vedere Red Bull, è un minicom, forse è un minicom. Stavo finendo di editare l'ultimo video e per questo video è tutto e da Dante è out! Grazie a tutti!